Sono Paolo Monelli, sono il responsabile tecnico del Milan Special Soccer Camp. Credo che sia molto importante per i ragazzi interagire tra di loro. C'è l'aspetto tecnico importante, però credo che l'aspetto di trovarsi con gli altri, interagire con gli altri, di esperienze anche diverse tra di loro, sia molto importante. L'importanza di avere anche i ragazzi di questa associazione, la ITA, che riescono a interagire con i ragazzi che giocano a calcio anche durante l'anno, sia molto importante e credo che tra di loro si possano trasmettere esperienze diverse. Questo è molto importante e vedo che interagiscono molto tra di loro. Grazie per la visione!